Dopo un'audienza lunga e combattuta, la prima sezione della Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 20 anni di reclusione in carcere nei confronti di Fabio Di Lello, 36 anni, accusato dell'omicidio di Italo Delisa, 22enne, ucciso a Vasto il 1 febbraio del 2017 con tre colpi di pistola per vendicare la morte della moglie Roberta Smargiassi, 34enne, deceduta dopo essere stata investita da Delisa, il 2 luglio del 2016. La Suprema Corte ha rigettato sia il ricorso proposto dal procuratore generale dell'Aquila, che mirava ad inasprire la pena disposta dalla Corte d'Appello, che quello delle difese, che avevano chiesto un'ulteriore riduzione della condanna della Corte d'Assise d'Appello, che un anno fa aveva riformato la sentenza di primo grado, che prevedeva 30 anni di reclusione, concedendo all'imputato le attenuanti generiche. La Cassazione ha anche eliminato l'aggravante della minorata difesa. La Suprema Corte è stata chiamata a discutere anche il ricorso presentato dal procuratore capo della Procura della Repubblica di Vasto Giampiero Di Florio, il quale aveva chiesto l'ergastolo, mentre in appello il procuratore generale Pietro Mennini aveva invocato la pena di 30 anni, rifiutando la concessione delle attenuanti. La Corte invece ha tenuto conto dell'attenuante della condizione depressiva e ha eliminato l'aggravante della minorata difesa. Gli avvocati Pierpaolo Andreoni e Giuliano Milia hanno sempre contestato la premeditazione da parte di Fabio Di Lello, rimarcando la grave depressione seguita alla tragica morte di Roberta Smargiassi e diagnosticata all'imputato durante la detenzione che sta scontando nel carcere di Lanciano. I legali spiegano che il loro assistito è ancora psicologicamente molto fragile ed è costantemente seguito sia da un padre spirituale che da uno psicologo.